Oggi vi mostrerò un'equivalenza dell'unità di misura della densità. In particolare vi farò vedere una tecnica che potete utilizzare per portare ad esempio una densità espressa in grammi al centimetro cubo in chilogrammi al metro cubo. Allora, la prima cosa che faccio è portare grammi a chilogrammi. Da grammi a chilogrammi sappiamo che ci sono tre posizioni della virgola, quindi 0,0082 chilogrammi al centimetro cubo. Adesso lavoro sul centimetro cubo, quindi riscrivo tutto il numeratore, 0,082 chilogrammi, e lavoro appunto sui centimetri cubici. In particolare isolo centimetro dentro una parentesi che sarà al cubo. Ora, al posto di centi sostituisco la sua potenza di 10 equivalente. Noi sappiamo che centi equivale a 10 alla meno 2 metri. Quindi ho sostanzialmente sostituito al posto di centi la sua equivalente potenza di 10. E adesso è sufficiente applicare le proprietà delle potenze. Poiché il numeratore lo riscrivo, applico le proprietà delle potenze. Essendo potenza di potenza devo moltiplicare gli esponenti. Meno 2 per 3 fa meno 6. 10 alla meno 6 metri cubi. Perché metro ha come esponente 1. Adesso, sempre per le proprietà delle potenze, posso portare questa potenza di 10 che ha un esponente negativo a numeratore facendo diventare l'esponente positivo. Sto usando una proprietà delle potenze. Quindi 0,0082 per 10 alla 6 chilogrammi al metro cubo. Adesso sistemo questo numero in notazione scientifica dando un intero e un decimale. Quindi ingrandisco questo numero spostando la virgola di 3 posizioni. Quindi 8,2. Avendo ingrandito il numero di 3 posizioni della virgola devo diminuire di 3 unità l'esponente. Quindi per 10 alla 3 chilogrammi al metro cubo. moltiplicando 8,2 per 10 alla 3, cioè per 1000, ottengo 8200 chilogrammi al metro cubo. Ovviamente può essere utilizzato in notazione scientifica o sotto forma di numero reale, in questo caso è un intero, un naturale, in base alle nostre necessità. Se io imparo a utilizzare bene questa tecnica posso fare qualunque tipo di equivalenza. Vi faccio un altro esempio. Supponiamo che l'equivalenza era da 8,2 grammi al decimetro cubo, sempre a chilogrammi al metro cubo. Allora, come prima, porto i grammi a chilogrammi e lavoro sui decimetri. Quindi scriverò una parentesi al cubo e al posto di 10 vado a sostituire la potenza di 10 equivalente, che è 10 alla meno 1. metri. Applico la proprietà delle potenze, quindi 10 alla meno 3, meno 1 per 3 fa meno 3 metri cubi. Quindi porto al numeratore la potenza di 10 facendo diventare positivo l'esponente. Per 10 alla 3, chilogrammi al metro cubo. E quindi questo 1,2,3 fa 8,2 chilogrammi al metro cubo. Ovviamente posso fare anche un'equivalenza al contrario. vi faccio un esempio. 8200 chilogrammi al metro cubo. Voglio riportarlo in grammi al centimetro cubo. Come faccio? Beh, porto i chilogrammi a grammi. Scusate, sì, i chilogrammi a grammi. Quindi 8200 chilogrammi sono 0, sono 8,2, 0, 0, altri tre zeri, grammi al metro cubo. A questo punto porto i metri in centimetri. Ma questa volta riscrivo il numeratore. Quindi sono 5,0, 1,2,3,4 e 5 grammi. E lavoro sui metri. Questa volta vado a sostituire il metro in centimetro. Perché io so che un metro sono 100 centimetri. Cioè 10 alla 2 centimetri. Quindi lo vado a sostituire. Al posto di metro scriverò 10 alla 2 centimetri. Applico le proprietà delle potenze. ottengo grammi fratto 10 alla 6 centimetri cubici. Ma posso portare 10 alla 6 a numeratore dando però come esponente 10 alla meno 6. Quindi 8,2, 0, 0, 0, 0, 0 per 10 alla meno 6 grammi al centimetro cubo. Adesso porto questo numero con un intero decimale. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 8,6 avendolo rimpicciolito di 6 posizioni della virgola devo aumentare di 6 posizioni l'esponente. E quindi questo farà 10 alla 0 grammi al centimetro cubo. Ma sappiamo che 10 al 0 è 1 quindi 8,2 grammi al centimetro cubo. Ottenendo ovviamente il risultato che mi aspettavo. Spero che questo video possa aiutarvi con le vostre equivalenze. Mille grazie dell'ascolto.